Sappiamo tutti che ingenti quantità di plastica e microplastica arrivano ogni giorno in mare e oltre all'impatto diretto sulla salute umana, tali rifiuti nell'ambiente marino possono avere anche un impatto sull'efficienza degli strumenti di pesca, che nel caso della pesca artigianale è ancora maggiore ed economicamente oneroso. Secondo le stime, l'80% dei rifiuti marini è composto da plastica e di tali rifiuti tra il 20 e il 40% è legato alle attività umane in mare, mentre il resto proviene dalla terraferma. Secondo un recente studio della FAO, solo il 10% di tali rifiuti è prodotto dagli attrezzi da pesca perduti e abbandonati. Per ridurre tale problema, già l'articolo 48 del Regolamento sul controllo della pesca, che prevede misure volte a promuovere il recupero degli attrezzi da pesca perduti, rappresenta un passo nella giusta direzione, ma a una portata troppo limitata, visto che gli Stati membri hanno la facoltà di esentare la maggior parte dei pescherecci da tale obbligo e che l'attuazione dei requisiti di informazione rimane scarsa. Da qui ad esempio deriva la necessità, secondo noi, di utilizzare il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca affinché i pescatori partecipino direttamente ai programmi di recupero dei rifiuti marini, fornendo loro ad esempio degli incentivi finanziari e non solo, ma anche materiali. La piccola pesca infatti non va penalizzata, ma semmai incentivata a ridurre i rifiuti di plastica che finiscono nei nostri mari. I piccoli pescatori possono e devono rappresentare un baluardo di sostenibilità in quanto sono i veri guardiani del mare. Considero l'intento di questa proposta più che giusto, ma va corretta tutelando la piccola pesca da misure inutili e punitive. Per questo, attraverso il lavoro e i nostri emendamenti, inviterò la Commissione, gli Stati membri e le Regioni a sostenere i piani di raccolta dei rifiuti in mare con il convolgimento, ove possibile, dei pescherecci, oltre a un piano di riciclaggio per le reti da pesca a fine vita. Grazie.